Con questo tutorial vi farò vedere come inviare i compiti su bsmart. Innanzitutto andiamo su Drive e selezioniamo questo più creando una nuova cartella, per esempio matematica. Schiacciamo Cria e la ritroviamo qui. Praticamente le cartelle servono per organizzare meglio i file in modo tale da non trovarli in maniera disordinata. Dopo andiamo sulla galleria e selezioniamo la foto da inviare. Possiamo schiacciare Condividi e poi Salva in Drive. Rinominiamo la foto e la salviamo. Vediamo che qui sta caricando il file su Drive. Il caricamento è completato e possiamo andare poi su Drive. Un altro metodo per caricare i file è sempre schiacciare il più e poi carica e selezionare il file. Adesso il file che abbiamo salvato dalla galleria lo ritroviamo qui sotto. Schiacciamo questi tre puntini e poi lo spostiamo nella cartella della materia alla quale derivano e poi sposta. Ok, l'elemento è stato spostato. Poi possiamo andare su bsmart e accediamo con le credenziali date dalla scuola. Dopo andiamo su Classroom e si aprirà la pagina con tutti i corsi che frequentate. Selezioniamo il corso del professore al quale dobbiamo inviare i compiti e andiamo su Agenda. Come vediamo ci sono alcune cose rosse e altre verdi. Quello scritto in rosso sono le lezioni che svolgerà il professore mentre quelle verdi sono i compiti assegnati dal docente. Andiamo a selezionare il compito e scorriamo e troviamo Allega risorse che andremo a selezionare. Poi schiacciamo Aggiungi e selezioniamo Google Drive ovvero dove abbiamo salvato il file, il documento, la foto o qualsiasi cosa dobbiamo inviare al docente. Si aprirà il vostro Google Drive e selezioniamo la cartella dove abbiamo salvato il nostro file. Selezioniamo la foto da inviare e schiacciamo questa piccola V. Dopo possiamo selezionare Inserisci Procedi e troviamo gli esercizi già selezionati. Dopo basta salvare e consegnare il compito al docente.